Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Caterpostale 53 Marosti, internet, 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 vi ricordo che questa trasmissione radiofonica sta andando in diretta su internet ieri abbiamo, veramente stamattina alle 7 ho mandato l'annuncio su tutte le liste ripartendo da casa alle 2 già Pier Maria era già in collegamento cioè per cui ci sono già delle persone che in internet si sono già collegate in diretta allora, Francesco, Magia, Stragonaria e Paganesimo quasi 8 anni che parliamo di Magia, Stragonaria e Paganesimo ci pisciamo un po' addosso e non è questo, è che siamo abbastanza contenti perché abbiamo tenuto gli ultimi due dibattiti come sapete del Coggio dello Stragone ora, a tutti fa piacere chiaramente quando succede qualcosa di positivo e quando ti arriva il dibattito del 31 gennaio è arrivata quella persona da Roma a fare il servizio su quello che stiamo facendo per riuscire a capire che cos'è il Paganesimo in Italia e ci ha lasciato effettivamente un po' stupiti cioè effettivamente ci ha fatto piacere e ci ha lasciato un po' stupiti naturalmente quando al dibattito del 21 febbraio che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma 5 sono arrivate addirittura con l'aereo da Londra per fare un servizio su quello che stiamo facendo beh, anche questo ci ha lasciato molto stupiti in realtà in realtà sta succedendo questo che si sta sviluppando quello che noi aspettavamo cioè la necessità da parte del Passoone di comprendere non solo il fenomeno del Paganesimo che in realtà è un sviluppo galopante in tutta Europa ma addirittura di comprendere i meccanismi interni questa è la vera novità e in effetti ci sono stati in un solo giorno praticamente tre contatti di questo tipo appunto a Roma, Londra e quell'altro di cui ne parleremo quando sarà più concretizzato in un solo giorno che si stanno effettivamente sviluppando Francesco? Sì, infatti questo è importante anche perché tenendo conto che le tematiche religiose sono tematiche che nell'attualità nel contemporaneo hanno un peso fondamentale e noi ci interessa di questo religioso non tanto in quanto come forma strutturata ma quanto forma in cui le persone riescono a improntare la loro esistenza la loro vita che qualcuno cominci a prospettare che al di là del monoteismo e delle sue varianti cattoliche protestanti, ebrei, musulmani esista un modo diverso di entrare in contatto con la realtà, di percepire, di modificare, di modificarsi in maniera diversa è un segno positivo soprattutto perché appunto cominciano a saltare dei pregiudizi soprattutto perché i pagani possono raccontare quello che sono direttamente loro non c'è più nessun mediatore non esiste qualcuno che viene a raccontare cosa sono i pagani certo, chi fa inquisizione chi fa normalmente delle pratiche di disinformazione tende sempre ad attribuire agli altri dimensioni religiose delle caratteristiche che non hanno però noi con la nostra costanza con il nostro impegno con la nostra presenza su internet sulla presenza con varie conferenze con le varie iniziative con i dibattiti con la trasmissione siamo riusciti a invertire questa tendenza cioè dire che i pagani hanno una voce hanno una voce in campito i pagani non sono solo una cosa che appartiene al passato e quello che è difficile del paganesimo non sono più i monoteisti che dicono cosa del paganesimo ma sono i pagani stessi e soprattutto dimostra che il paganesimo ha una capacità dirompente perché offre un'alternativa pratica concreta e immediata ma offre appunto soprattutto un'indicazione esistenziale alle persone che è la cosa più importante e più interessante per noi perché a noi non interessano le strutture le chiese o le gerarchie ma interessano che le persone siano coscienti della loro realtà della loro dimensione e questo è lo scopo anche di questa trasmissione in effetti tanto per fare un'idea di ciò che succederà la persona che è venuta da Londra lei praticamente ha fatto un'intervista a me poi sono arrivate le persone e ha ripreso tutto il dibattito praticamente ha registrato e videoregistrato tutto il dibattito ha videoregistrato anche l'intervista e inoltre ci siamo stati due ore mangiando la pizza a discutere e praticamente è riuscita a comprendere tutta una serie di passaggi anche perché già delle idee le aveva in testa ebbene tutto questo materiale che lei ha raccolto sarà presentato in un esame che lei terrà in una delle università di Londra davanti a un'equipe di professori e davanti a studenti che assistono all'esame lei farà questo esame proiettando le immagini e traducendo e spiegando quello che sono le nostre idee del paganesimo e quello che è stato il contenuto del dibattito pertanto tutto quello che lei ha videoregistrato una telecamera in dotazione dell'università credo che costasse 3 milioni, 3 milioni e mezzo una cosa del genere tutto quello che lei ha videoregistrato in realtà va davanti a una commissione con personale docente e studenti e lei spiegherà tutto quello che abbiamo fatto penso che sia non dico il massimo però in effetti un grosso aggancio insomma rispetto a questo anche perché logicamente quel materiale non è fino a se stesso in quanto va a entrare sicuramente a far parte del materiale che questa università ha a disposizione per spiegare le cose di conseguenza quando in questa università di Londra qualcuno vorrà capire cosa è il paganesimo italiano andrà a recuperare questo documentario questo esame questo materiale sonoro e i video raccolto e potrà ascoltare direttamente e percepire chiaramente cosa è il paganesimo di conseguenza non solo queste persone o le persone che andranno assistere all'esame a Londra ma tutta l'università avrà a disposizione un materiale diretto consistente perché appunto ha fatto l'intervista ha ripreso tutto il dibattito e di conseguenza chi vorrà approfondire o vorrà vedere anche un'idea concreta di cosa è il paganesimo avrà questa possibilità che non è da poco abbiamo visto anche che la tipologia delle ricerche dei lavori sono diverse mentre l'università si è più concentrata sulle idee sui passaggi sui passaggi che sono ideali della religione l'altro lavoro invece che è in preparazione appunto la persona che è arrivata da Roma è più incentrato sulla realtà religiosa nel suo insieme per cui i processi di trasformazione che ci sono avuti come noi siamo mossi sul territorio diciamo così e come abbiamo rappresentato le idee religiose penso che sia stato un ottimo un ottimo risultato Francesco tutto questo si si bianca perché altre prospettive sono in ballo e di conseguenza insomma questo dimostra anche che la continuità di questa trasmissione è riuscita a far comprendere chiaramente che il paganesimo è una risorsa enorme è un campo infinito che raccoglie migliaia di anni di storia di mitologia e che la applica e la porta a vivere nel quotidiano e trova anche una sua manifestazione concreta nella realtà d'altronde già negli anni 80 quando Ilman cominciò a scrivere il nuovo politeismo e disse che la psico occidentale poteva essere compresa spiegata o poteva manifestarsi o fare riemergere soltanto richiamando alla vita o ripristinando l'archetipo degli antichi dei dimostrava chiaramente che il monoteismo è stato un qualcosa che ha soppresso che ha cancellato che ha nientato o che ha messo in sonno che ha fatto soffocare la realtà psichica delle persone e di conseguenza molte persone a livello mondiale hanno intrapreso questa strada che è un'opera appunto di riemersione perché il paganesimo è la capacità di trovare nelle varie epoche la capacità di vivere di affrontare le varie situazioni e questo appunto lo stiamo facendo noi logicamente non tutti anzi forse solo noi in Italia abbiamo il coraggio di parlare di religione o di religiosità e questo è importante perché quello che noi vogliamo sottolineare che il nostro non è un'opera archeologica non è un'opera culturale non è un'opera intellettuale ma ha una finalità spiccatamente religiosa cioè nel senso che insegna a legare assieme la realtà individuale con la realtà del mondo e di conseguenza il fatto nostro è ancora più dirombente proprio perché non abbiamo nessuna forma di ritegno come hanno alcuni di nascondersi dietro a situazioni culturali se noi dobbiamo parlare di cose noi diciamo noi siamo una realtà religiosa che ha uno scopo e soprattutto dobbiamo far capire che la religione non è solo la religione del monoteismo come si parla del monoteismo ma esiste delle forme religiose che sono ben diverse e che sono antitetiche a quelle del monoteismo bene il prossimo dibattito lo otterremo in aprile in marzo stiamo tentando di organizzare il rito del quinotio di primavera naturalmente sarà tenuto il bosco sacro di esolo il sabato mi sembra non ho il calendario sotto mano comunque il sabato più vicino al giorno 21 vediamo come riuscire a fare il sabato 20 per cui il sabato 20 ci sarà il rito del quinotio di primavera vediamo come organizzarlo perché celebrare la nascita è abbastanza complesso diciamo io sto leggendo Kurt Hubner in realtà ci hanno fregato ci hanno portato via quasi tutti i modi di rappresentazione storici classici delle antiche religioni per cui i monoteisti diciamo così i cristiani ci hanno portato via diciamo così tutta la nostra rappresentazione chiaramente noi ci troviamo davanti a una situazione paradossale nel senso che tutto quello che sono gli antichi riti sono nostri però sono stati talmente sottratti dai cristiani e stuprati proprio nella direzione in cui andava il legamento fra l'uomo e il mondo che ci troviamo nella situazione doveva ricostruire ciò che è irricostruibile per cui siamo praticamente da soli davanti al mondo e dobbiamo riuscire a costruire il rito che costruisca il legame emotivo fra l'uomo e il mondo e fra l'uomo e gli dèi ed è una difficoltà veramente enorme riuscire a fare questo perché significa mettere in gioco la propria struttura intuitiva la propria struttura emozionale per ricostruire ciò che è stato distrutto e non si può imitare ciò che è stato distrutto cioè non si può riprendere pari pari un rito ma è necessario ricostruire tutto nell'epoca attuale è effettivamente un'impresa enorme che significa mettere in gioco quella che è la struttura delle emozioni delle persone ed è la cosa più pesante che ci sia comunque faremo anche questo sì ma di fatto appunto già il time in rito richiama appunto al ritorno al risveglio a ricostruzione come diceva Claudio logicamente la ricostruzione non è un'opera puramente di ricostruzione materiale identica ma è un nuovo edificio che parte considerando da quello che il politeismo la religione antica è riuscita a fare d'altronde quando si parla sempre di paganesimo già nell'ottocento c'era il termine del ritorno o risveglio degli dèi ma questo qua appunto significa chiaramente che la divinità del mondo non è mai sparita è stata stata occultata è stata solo nascosta e noi stiamo facendo riemergere questo logicamente la divinità del mondo è anche interna alle persone e anche le persone hanno questa capacità è una caratteristica una dimensione che è stata volutamente occultata soffocata fatta sparire però non è stata mai persa la nostra capacità è quella proprio di tirare via queste incostrazioni di fare riemergere quello che di antico di nuovo di continuo esiste all'interno della vita delle persone all'interno della vita del mondo e di questo appunto si parla del rito perché il rito si può dire di ricollegarsi alla realtà del mondo significa che noi dobbiamo di nuovo essere attenti dobbiamo essere sensibili dobbiamo avere la capacità di percepire e di trarre nuovi legamenti di quel mondo nuovi contatti nuove visioni riscoprire la capacità di osservare perché appunto ricordiamo sempre che il paganesimo non è un fattore puramente interiore psichico ma è un qualcosa che tramite i sensi tramite lo sguardo osserva partecipa vede il mondo e con questo mondo capisce la realtà che lì attorno e questo è fondamentale proprio perché vogliamo sempre dire che il paganesimo è un qualcosa che porta verso l'esterno che porta ad agganciarsi ad entrare in contatto a percepire la realtà e questo è un insegnamento base continuo e costante bene francesco chiudiamo qui un attimino i discorsi nostri e passiamo un attimino alla notizia posso dare un'altra notizia di una conferenza? no non è quello che pensi allora domani sera a Paderno del Grappa c'è un incontro organizzato non sono capito da un'associazione locale e l'amico Silvano è stato invitato a tenere una piccola relazione appunto sulla religiosità degli antichi veneti all'interno della religiosità dei popoli indoeuropei ritiro la risata pensavo ad altre cose ecco di conseguenza teniamo presente che ci sono vari relatori cioè nel senso che non esiste un solo relatore io non so neanche chi siamo tutti quanti i relatori però è importante che appunto gli ascoltatori conoscono Silvano l'importante è appunto che per parlare di religione di religiosità degli antichi veneti e soprattutto della loro religione legata ai popoli indoeuropei si è stato chiamato Silvano proprio perché come ben conoscete è una persona autorevole in questo campo e ora io do appuntamento io sarò presente io e altri sostituti saremo presenti do appuntamento appunto per domani sera alle 20 e 30 alla trattoria Orchidea a Paderno del Grappa e la trattoria Orchidea si trova sulla strada che da Paderno porta a Crespano penso che poi i paesi non sono giganteschi penso che se trovate i segreti di denuncazione trovate il posto e c'è so che sono presenti anche altri speaker di questa radio perché sono stati invitati anche i ragazzi che trasmettono una volta al mese quelli di Reise Venete che parleranno sempre di cultura veneta se sono altri relatori che non conosco che non sono alle tematiche comunque noi saremo presenti appunto e sarà Silvano a otterra questa relazione siccome ben pochi fino adesso hanno affrontato in maniera approfondita la tematica della religione degli antichi Veneti io appunto invito a partecipare perciò domani sera alla trattoria Orchidea a Paderno del Grappa alle 20 e 30 c'è appunto la relazione di Silvano che dice i Veneti e la loro religiosità all'interno nel contesto dei popoli indoeuropei benissimo io do appuntamento là chi vuole degli ascoltatori sa che mi troverà presente bene Francesco dai via tu allora alle notizie stampa che abbiamo per le mani meglio di Silvano da quella di oggi perché siamo ormai veramente all'incredizione no incredibile noi sappiamo queste cose però quando emergono chiaramente ci colpiscono sempre vai sì ecco io voglio partire da un fatto di attualità gli ascoltatori sanno benissimo che la trammissione nostra fin dall'inizio ha sempre sollevato il problema di quello che riguarda l'attività pedofilia dei sacerdoti cattolici in particolare parliamo di sacerdoti cattolici perché noi viviamo all'interno di una società che è condizionata ed è piegata sul cattolicesimo abbiamo seguito molto attentamente le vicende dei preti cattolici pedofili negli Stati Uniti e abbiamo sempre ricordato che quello che è negli Stati Uniti non è un caso isolato non è un caso particolare ma è una qualcosa che ha a che fare con tutta la realtà del cattolicesimo e noi abbiamo sempre dato notizie a tempo tutto traccia memoria dei continui dello stilicidio della continuità di arresti di preti pedofili di inchieste di denunce allora anche proprio ieri si è avuta la notizia dell'ennesimo preto pedofili arrestato la cosa strana è appunto che per la prima volta un telegiornale io vedo pochissimo la televisione però un telegiornale che parlo in questo caso del TC2 ha fatto un ampio servizio sulla cosa e non ha avuto il classico atteggiamento di difendere a spada tratta il preto pedofilo ma ha cercato di rimanere neutrale di intervistare un po' le varie persone e questo che ci dimostra è che il preto è stato arrestato e fatto strano oggi prendo la Repubblica il Corriere della Sera la Repubblica ha un ampio servizio sul film di Mel Bixson che se ne parlerà la passione di Cristo e non c'è almeno io non ho visto nessun accenno nessuna storia che si riferisce a questo al contrario il Corriere della Sera dedica un articolo molto interessante su questo preto pedofilo arrestato a Roma arrestato preto pedofilo lui risponde aiutatemi sono malato e riporta una dichiarazione degli abitanti del paese il paese fra virgolette aspettavamo questo momento da 5 anni chiusi in virgolette il materiale trovato in casa di questo sacerdote di questo prete cattolico e cristiano è enorme e pensate che appunto questo era un prete che si era molto impegnato in cose nel seguire i vecchi nel seguire gli anziani e tutti quanti i parruci della donna lo stanno difendendo invece sappiamo benissimo che tutti i fedeli gli abitanti del paese dicono erano 5 anni che aspettavamo questo momento racconto una donna inviperita quel prete diceva sconcezze bene ma cosa che aveva fatto questo sacerdote per essere così ben voluto in paese però dice il giornalista però io lo ricordo bene disse anche perché prese una posizione molto dura ad esempio contro la festa di San Gioacchino patrono di Colleferro Scalo ritenendo in un'occasione pagana allora vedete questo è un paroco che si è impegnato nel contestare la festa che facevano gli altri dicendo che era pagana e cosa aveva fatto lui per impedire a suo scarico di essere pedofilo aveva chiesto al comune di tirare via le panchine davanti alla schiesa perché non voleva che i bambini giocassero là però tutto fatto sta che appunto questo ha violentato per diversi anni un bambino un ragazzo di 14 anni che all'età di 18 anni dopo che è entrato in cura da un psicologo ha avuto il coraggio di rinunciare questo i carabinieri non sono intervenuti subito hanno preso la massima cautela di fare 10 giornali sono stati cauti e hanno indagato hanno indagato hanno addirittura attribuito alla vittima di essere un mitomane però dopo che questa persona ha subito violenza dopo che ha dovuto aspettare 4 anni della sua esistenza dai 14 ai 18 anni per avere giustizia è stato qualcun stato un mitomano perché andava a toccare un buon pastore però nonostante tutto questo alla fine è emerso questo perché da quello che si dice al giornale da quello che fa trappellare il materiale pornografico era consistente e questo qua appunto succede ma la cosa strana è che il fatto dei preti pedofili non è un fatto isolato che qualcosa comincia a emergere e cominci anche a venire a galla c'è un altro fatto venerdì 20 febbraio la Repubblica riportava un piccolo trefiletto Vaticano con l'aiuto degli esperti prevenire i crimini dei preti pedofili e ora se la città del Vaticano comincia a parlare di una maggiore collaborazione tra chiesa ed esperti in sessuologia psicologi andrologi e psichiatri significa che la quantità in numero di preti pedofili coinvolti è consistente e il fatto stesso che si cerca di trovare una soluzione di trovare una commissione probabilmente è un attivo di coprire la cosa esatto infatti il Vaticano conosce decine e decine di preti pedofili non disposta li lascia là questi continuano a violentare i ragazzi e non vengono perseguiti a norma di legge perché la legge agisce entro certi termini con determinate procedure il Vaticano conosce tutto questo lo sta coprendo al solo fine di continuare a stuprare i ragazzi e mi sembra che sia la cosa più infame e più squallida che ci sia questa si ma tenendo conto che già la pedofilia noi dicevamo che è una caratteristica di chi segue di chi ama Cristo di chi segue il suo insegnamento sappiamo che quello che porta il cristianesimo con i suoi esempi atroci con la sua violenza con la sua imposizione è caratteristica perché ora leggiamo che il Vaticano dice prevenire i crimini di preti pedofili viene arrestato un parroco a Roma e non è l'unico non è il primo e non sarà neanche l'ultimo ricordiamo che il 30 gennaio cioè praticamente 25 giorni fa due preti sono stati arrestati in Piemonte per pratiche di pedofilia di stupro di minori di violenza su minori è un altro è un altro praticamente una settimana fa siamo tre casi nel giro di pochissimi giorni quando il prete è arrestato a Piacenza ha patteggiato la pena cioè se l'è cavata con niente praticamente e ritornerà a fare le sue cose cioè ricordatevi tre casi del genere sono un'enormità cioè è una cosa enorme che poi si collegano anche ad altre notizie cioè i vescovi che chiedono sovvenzioni per le scuole cattoliche allora dove hanno già smentito hanno già smentito si vabbè non ho visto la notizia di ieri c'è un altro trofiletto piccolissimo sulla Repubblica di oggi eh non l'ho vista la Repubblica di oggi comunque beh insomma meglio che venga smentita la faccenda perché l'hanno smentita loro l'hanno smentita loro cioè perché significa chiedere soldi per continuare a stuprare i ragazzi perché ricordiamo che le scuole cattoliche sono scuole in cui i ragazzi vengono stuprati a parte il fatto il livello di insegnamento è squallido cioè è un livello di insegnamento talmente basso da essere offensivo per il sistema sociale nel cui stiamo vivendo tant'è che ci sono diplomi regalati comperati letteralmente e sarebbe bene che ci fossero delle inchieste su questo perché le informazioni che si hanno sono le voci che corrono fra la gente le voci che corrono fra le scuole chi fallisce nelle scuole pubbliche cosa fa? prendersi il diploma nelle scuole private cattoliche sono informazioni che ci sono però chiaramente servono prove per andare in tribunali in ogni caso queste informazioni sono più che sufficienti per dire che il livello culturale il livello della preparazione culturale delle scuole cattoliche è zero cosa significa questo? che quando uno ti piglia una laurea o ti piglia un diploma superiore nelle scuole cattoliche valgono zero chiaramente non andrà a fare quel tipo di lavoro ma farà magari carriera politica ci troviamo dei politici perfettamente idioti perfettamente deficienti con un tanto di pezzo di carta che dice che loro sono però culturati e ci troviamo dopo i disastri sociali cioè questo è effettivamente la cosa grave no ma difatti diamo la dimostrazione di questo cioè già lo sconvolgimento che può provocare sulle psiche delle persone è gravissimo perché sappiamo che il cristianesimo con la sua follia del sangue e il film che è tipo quello della passione di Cristo la passione di Meg Gibson è una dimostrazione di questo ma ricordiamoci quello che è successo a Como esatto mi interessava anche quel tipo di perché dice riporta il Corriere della Sera fa accoltella la figlia in chiesa dovevo purificarla la sto purificando lo faccio per la pace nel mondo sono le parole senza senso no hanno un senso hanno un senso preciso che ha pronunciato i primi soccorritori accorsi nella chiesa di San Luigi allurate e cacivio richiamati dalle urla che si sentivano sin sulla strada la donna si era avvicinata all'altar maggiore e sanguinante accanto alla bambina di due anni che stava colpendo accoltellate nel addome ragazzi qui questa è struttura educazionale questo sono gli effetti dell'educazione cristiana gli effetti dell'educazione cristiana portano a questo non su tutte le persone portano a questo indubbiamente portano anche alla formazione dell'esercito del signore in Uganda che massacra uomini donne e bambini cioè ogni persona che soggiace a quello che è la struttura educazionale cristiana soggiace all'attività dei missionari soggiace all'attività della perversione del cristianesimo lo elabora soggettivamente a seconda delle contraddizioni che trova nel sistema sociale lo butta fuori chiaramente non tutti vanno ad accoltellare i figli nello stomaco ma l'accoltellamento dei figli nello stomaco è il prodotto fisico razionale della struttura educazionale cristiana che è una cosa di una berrazione in Europa stanno cacciando via tutti i cristiani da tutte le strutture istituzionali che contano cioè c'è soltanto l'Italia che è stata isolata dall'Europa è stata isolata anche nei discorsi per la costituzione europea proprio per aver sostenuto prima il Dio nella costituzione europea e dopo il cristianesimo cioè noi siamo stati isolati dalla comunità europea anche per questo tant'è che Francia Germania e Inghilterra hanno deciso praticamente di tagliare fuori l'Italia cioè non abbiamo neanche la capacità di vedere il futuro del nostro sistema sociale permettiamo a sti preti di macellare i nostri figli e lo facciamo così con una leggerezza con una non curanza con disprezzo della vita sociale che è veramente angosciante cioè sconvolgere l'Europa non è soltanto sì no ma infatti anche appunto perché chi è che ha fornito i modelli comportamentari a questa follia a questa persona e probabilmente chi è che ha ammalato questa persona perché probabilmente questa è una persona che se avesse trovato una condizione complessiva sia familiare sia sociale sia culturale ben diversa probabilmente i suoi disturbi sarebbero stati meglio utilizzati meglio incanalati incanalati anche in direzioni diverse Francesco se proprio avessero disturbi perché poi non è neanche detto noi diamo per vero che fosse depressa cioè accettiamo una diagnosi medica che ci riporta al giornale però ricordiamoci sempre che da chi ha insegnato che il padre o una madre deve coltellare i figli Abramo e Isacco sono esaltati come esempio di fede di fiducia in Dio di totale sottomissione a Dio sono gli eroi nella famiglia sono veramente quelli che sono come comportamenti cioè nel senso che un padre arriva ad uccidere per volontà e per piacere di Dio arriva a uccidere il figlio ebbene quando una religione offre simili modelli e quando lo fa l'esempio della perfetta e totale obbedienza non c'è niente da incredibile nel vedere che una madre pensa di dover purificare la figlia da cosa poi cioè tenendo conto che è una bambina di due anni tenendo conto che questa è ricordata in gravi condizioni perché ha avuto enormi ferite interne agli organi interi e mi è stata coltellata non è stata una coltellata singola ma d'altronde con ritualità tipo quella della Pasqua cristiana in cui il buon Dio si diverte a sgozzare i primogeniti dell'Egitto non c'è da meravigliarsi ma che ci sia questo gusto per il sangue questo gusto per la violenza c'è un'altra cosa che vorrei aggiungere da dove deriva allora esiste una discussione di attualità sul film La Passione di Meg Gibson premesso appunto che la passione è un falso storico in quanto gli ebrei non sono responsabili di decidere perché essendo mai esito Gesù Cristo non possono mai averlo ucciso di conseguenza questo è risolto e non è un problema per noi ma da dove arriva questo gusto per il sangue allora c'è un un attore che ha lavorato con Meg Gibson nel film Ambletto e dice gli chiede parlando della violenza dice e tu come lo sai Mel sorride ne ho visti morire tanti gli risponde e dice lui insiste questo attore gli chiede Mel gli stinge le spalle e risponde fra virgolette quando posso per rilassarmi vado nei miei allevamenti e ne ha amato tanti di Vitelli nei giorni di mattanza restiamo chiuse virgolette questa è una fase di Mel che mi sono riportata tra virgolette e dice Mel continua perfettamente a suo agio due punti aperti in virgolette ma con la pistola quelle bestie muoiono troppo in fretta si capisce meglio quello che gli succede attraverso gli occhi dei Vitelli quando li sgozziamo chiuse virgolette queste sono le dichiarazioni dell'attore del regista che ha speso 25 milioni di dollari per fare il film sanguinario truccoletto da macelleria che si chiama La Passione ma vedete dove è la follia io per rilassarmi vado nei miei allevamenti sgozzo i Vitelli perché li vedo soffrire e si capisce meglio perché appunto la sua goduria nel fare quel film la sua perversione è la dichiarazione riportata dal Corriere della Sera di giovedì 26 febbraio perciò se andate in indicola la trovate e appunto ha dedicato un'intera pagina a questa cosa e queste frasi di Mel Gibson sono riportate fra virgolette non è che sia di conseguenza lui disse chiaramente che questo ha dichiarato che lui si rilassa a sgozzare i Vitelli e che gli piace vedere morire e soprattutto gli piace vederli morire sgozzati perché dice gli occhi si chiudono per ultimi si capisce meglio la loro sofferenza cioè io non ho nulla contro la macellazione quando viene fatta proprio per finalità alimentare ma trovo veramente disgustoso esabuolo di figlio disgustoso il fatto che uno vada a sgozzare i Vitelli per rilassarsi e trova piacere nel vedere la loro sofferenza beh altrimenti è un cattolico integralista sì sì ma è un cristiano le cose hanno una loro assonanza capisci per essere un cattolico integralista bisogna avere il piacere dell'omicidio cioè il piacere della morte il piacere di far soffrire gli altri per cui di stuprare i bambini di costringere i ginocchi a pregare di sentirsi onnipotenti su chi è indifesi cioè questa tensione psichica è propria del monoteista integralista cioè il monoteista che non ha ragione non ha rappresentazione cioè che è una cosa veramente aberrante sì no io voglio rileggere la frase Mel Gibson dichiara aperte virgolette Corriere della sera di oggi pagina 39 aperte virgolette ma con la pistola quelle bestie muoiono troppo in fretta si capisce meglio quello che le succede attraverso gli occhi dei vitelli quando li sgozziamo chiuse virgolette penso che la frase commenti non ne abbia bisogno cioè sia significativa logicamente poi non c'è da meravigliarsi che si voglia fare un impatto emotivo sugli altri andando a raccontare le presunte le false le inventate passione di Cristo sofferenza di Cristo anche perché mi è venuto da ridere perché leggendo fra le varie cose addirittura uno per spiare le sue colpe ha comprato l'interaibilità di un cinema e gli ha offerti come spiazione alle altre gratis i cattolici sono arrivati a delle cose incredibili e poi non meravigliamoci che a Como una madre vada a contegnare il figlio ma in effetti quello che sta succedendo in questo momento sarà perché l'informazione sta circolando con maggiore rapidità sarà perché noi siamo molto attenti alle cose ma in realtà si sta sempre più verificando quello che noi dicevamo fin dalle primissime trasmissioni la manifestazione patologica di quello che è il cristianesimo e il monoteismo non una manifestazione religiosa ma proprio una manifestazione di malattia di necessità di macellare di necessità di uccidere di necessità di stuprare e anche l'individuo più povero più miserabile che si sente cristiano in fondo proprio perché lui è povero proprio perché lui è miserabile trova la propria soddisfazione nella relazione nel rapporto che lui ritiene di avere col dio padrone perché è proprio a lui lui miserabile è proprio a lui che il dio padrone gli parla il dio padrone gli comunica proprio a lui che è onnipotente certo adesso è miserabile ma dopo cazzo avrassi i suoi premi avrassi il riconoscimento della sua bontà d'animo avrassi il riconoscimento di ciò che è e questa patologia che si viene a innestare è una patologia di distruzione del sistema sociale è effettivamente un'attività di terrorismo di eversione del sistema costituzionale del sistema sociale del sistema istituzionale ed è di una gravità veramente immensa enorme sì ma diamo un ulteriore esempio del comportamento dei buoni cattolici noi abbiamo ricordato alcune volte la devozione di tanzi verso la chiesa cattolica verso le gerarchie sappiamo che da punto di vista contabile ne ha fatti di tutti i colori da quello che si dice da quello che si legge noi non siamo né i giudici né ne siamo incaricati non abbiamo neanche investito nella parma perciò non abbiamo neanche problemi non abbiamo neanche questo tipo di problemi non siamo fra i 170.000 truffati però Clero diviso sui doni di tanzi era generoso allora dice il canonico del Duomo di Parma credo che le offerte di tanzi superassero i 500.000 euro all'anno 500.000 euro circa un miliardo insomma deve chiedere questo si dice che in contabilità facesse carte false e il Corriere della Sede dice fa le somme più ingenti svariati miliardi di lire effettivamente effettivamente furono versati con modalità di legge cioè nel senso che l'unica legalità l'unica legalità dell'illegalità erano i finanziamenti alla chiesa cattolica al sostentamento della chiesa cattolica e pensate che soltanto per un restauro lui ha stanziato legalmente rispettando la legge 700.000 euro cioè per un altro restauro e come vedete questi soldi da dove sono arrivati penso che sui giornali ha trovato le risposte insomma ecco e torno a ripetere le somme più ingenti svariate in miliardi di lire effettivamente furono versate con modalità di legge è quasi una presa in giro però io invece Francesco voglio spaccare tutti questi discorsi romperli perché avevo un vecchissimo pero probabilmente mi emozionerò anche vabbè l'importanza sopporteranno